Salve amici siamo giocatori per caso, facciamo l'incarico che è uscito ieri con l'aggiornamento dai da mangiare clombacche a un clombo, ma iscrivetevi al nostro canale perchè mettiamo tutti gli incarichi che usciranno domani in anticipo clombo è il nome di questo bellissimo dinosauro a cui piacciono molto le clombacche è un po' come i puffi, bisogna dargli le puffbacche ai puffi, ma questo invece di essere alto due mele poco più è alto due case poco più allora clombo si trova in tutta la zona verde della mappa, non dove c'è il ghiaccio e ha appena sputato un'arma, quindi andate nella zona verde un po' ovunque non mi metto i punti di spawn precisi perchè ce n'è veramente tanti voi basta che girate un po' con il deltaplano o con un'automobile nella zona verde e la trovate anche se a sud della mappa esiste un png che vende le clombacche, secondo me non ne vale la pena basta che andate in giro per i prati perchè si trovano solo nella zona verde e le vedete guardatele qua, queste sono tre piante di clombacche quello che dovete fare è avvicinarvi, premere, questa è la posizione in cui sono più o meno al centro della mappa leggermente sulla destra, vi avvicinate, raccogliete le clombacche e ogni pianta ve ne da due noi per fare questo incarico dobbiamo dare cinque clombacche per cui dobbiamo spennare diciamo tre piante così ne abbiamo un totale di sei ora andiamo in giro e cerchiamo il nostro caro amico clombo che tra l'altro devo dire è molto simpatico trovarlo non è difficile, è grosso quanto un palazzo se noi gliele lanciamo vediamo un po' cosa fa lui l'aspira, l'aspira tipo l'aspirapolvere Dyson e se l'è mangiata gli dobbiamo dare cinque clombacche adesso controlliamo un attimo l'incarico l'incarico era l'ultimo in fondo si, vedete, uno di cinque adesso gli do le altre due, tre, quattro, cinque gli do anche la sesta, io mi è simpatico e l'aspira tipo il Dyson guardate che roba, è incredibile sta aspirando tutto però le altre le ha lasciate lì, non le ha mangiate dai, mangia anche quelle amico e ha sputato un'altra arma wow, dobbiamo fare uno speciale sui dinosauri dopo perché sono troppo belle adesso ho aspirato le ultime e voilà, la sfida è finita e intanto adesso vado a vedere il mio nuovo amico perché è proprio simpatico ha talmente grossi denti che si può mangiare l'automobile mamma, è enorme però è simpatico questo incarico è finito ma dopo metto anche un video con uno speciale di dinosauri che vi racconto un po' di robe su di loro a dopo se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche e partendo la campanella e partendo la campanella sopra la campanella